buon pomeriggio benvenuti quest'oggi trading room al pomeriggio ore 15 e 30 perché è giusto parlare anche un po dei mercati americani soprattutto alla luce di quello che sta succedendo cioè di un nasdaq molto molto forte evento tutto sommato atteso se seguite con continuità perché avevamo evidenziato già da un po di tempo anche nei report settimanali che vengono condivisi sui social in particolar modo nella newsletter come il nasdaq avesse una maggiore forza rispetto ai mercati europei che sono fermi assolutamente in stallo sotto resistenza ormai da due mesi mentre abbiamo un nasdaq che stava approcciando le resistenze e qua vediamo le performance di oggi con un fuzzimib più 1,33 parleremo poi magari brevemente anche sul finale dell'italia del fatto che si è portata sopra alla resistenza dei 27.280 ma è un breve spazio di aggiornamento dell'italia e del resto d'europa lo faremo appunto in chiusura partiamo invece dai mercati americani con nasdaq s&p 500 attorno alla parità dax guadagnano più 0,68 per cento ma ci sta dopo la grossa salita che c'è stata nella giornata di ieri oggi sarà una giornata particolare particolare nel senso che avremo un commento a mercati aperti del capo della Federal Reserve Jerome Powell abbiamo il mercato si attende ha avuto questo forte balzo in avanti anche per l'attesa inerente un accordo sull'inalzamento del tetto del debito del governo federale e questo ha portato ottimismo ma ottimismo c'è anche legato all'aspettativa che l'inalzamento dei tassi si fermi e quindi questo aggressivo ciclo di rialto dei tassi vada incontro ad una pausa e dal punto di vista tecnico che cosa è accaduto eccolo qua questi sono il grafico che è stato condiviso nei report con i due livelli di resistenza evidenziati il primo livello di resistenza in cui si era detto se il nasdaq dovesse riuscire ad abbattere i 15.350 punterebbe sui 15.750 questo è quello che ho scritto negli ultimi due report così alla rottura di questo primo livello di resistenza il nasdaq ha accelerato e con forza ieri e si è diretto sul secondo livello di resistenza ed eppure questo è stato rotto se andiamo a prolungare prolunga linea eccolo qua andiamo a prolungare questo livello di resistenza che corrispondeva ai massimi del 15 agosto del 2022 guardate che non è un livello banale questo non è un livello niente affatto banale perché qui transitavano sia le resistenze statiche sia resistenze dinamiche si era andato a fermare praticamente su questo livello di resistenza dove transitava la trend line ribassista e ora il fatto che sia stato abbattuto questo livello di resistenza in chiusura con questa forte candela che ha portato al superamento del livello evidentemente nuovi acquisti quindi un'accelerazione o chiusura se qualcuno era rimasto ancora short quindi acquisti anche per chiusura di posizioni short ha portato a un'impennata notevole del nasdaq che fa nettamente meglio rispetto all'S&P 500 perché se andiamo a vedere l'S&P 500 è rimasto più indietro quindi l'S&P 500 sta forzando adesso l'equivalente del primo livello dei 13 350 del nasdaq lo sta forzando proprio tra ieri e oggi la secondo livello di resistenza quello dei 13.750 del nasdaq equivale invece a questo massimo del 16 agosto del 2022 a 4.315 punti dell'S&P 500 ed è ancora abbastanza lontano questo rafforzamento dei mercati americani fa da contraltare alla lateralità invece del Puzzimib e del DAX ma appunto un accenno lo faremo come detto in chiusura dall'altro lato l'altro lato meglio parlando invece dell'euro dollaro è successo che ha sentito la resistenza sull'1.1129 non è riuscito ad abbattere questo livello di resistenza che ci avrebbe potuto portare verso l'1.15 si è formato appunto questa resistenza e da lì l'euro dollaro ha invertito attenzione perché la rottura dell'1.0870 potrebbe a questo punto proiettarci verso il livello di supporto successivo dell'1.0650 ipotesi tutt'altro che da scartare in questo momento. Lì il grosso movimento del Nasdaq è stato favorito da naturalmente dai titoli azionari che hanno un grosso peso su questo indice ad esempio Amazon è un titolo che si è portato sopra le resistenze di breve la resistenza più importante per Amazon era questa dei 114 100 no anzi chiedo scusa questo è il massimo 114 stavo dicendo giusto 114 dollari massimo molto importante stato rotto da parte di Amazon ma ci sono titoli che sono partiti anche prima ad esempio Apple eccolo qua Apple che come vedete ha decretato l'inversione del trend ribassista già alla rottura di questa trend line poi ha iniziato a invertire la dinamica dei massimi e minimi decrescenti con una sequenza di massimi e minimi invece crescenti e l'ultima resistenza che è stata abbattuta dal quale ha consolidato e poi è andato con decisione a portarsi su questo livello che è 175 90 quindi questo è una bella resistenza adesso 175 90 ma sono abbastanza fiducioso che smaltito un po' di ipercomprato magari con una piccola correzione possa ulteriormente allungare e superare i 180 altri titoli che sono partiti con decisione ad esempio se sono rimasti un pochino più indietro ma attualmente stanno accelerando rialzo Netflix qua c'è questa resistenza cui prestare attenzione 379.43 è veramente l'ultimo baluardo perché per Netflix perché se dovesse rompere anche questo livello di resistenza quella successiva è sui praticamente vicino ai 400 dollari anche qui ha battuto la trend line ribassista già da diverso tempo il peggio è stato scontato da parte di Netflix e si è portata sopra la media mobile 200 periodi questo già lo scorso novembre altri titoli che hanno dato ovviamente segnali di grandissima forza ad esempio Alphabet eccolo qua che continua la sua ascesa che ha accelerato in modo netto al superamento di questo livello di resistenza di 109,40 vedete come oltre questo livello abbia accelerato e ora si è portata anche sopra questo importante massimo che era quello del come data 16 agosto del 2022 e quindi direi che Nasdaq è veramente a questo punto ha voglia di recuperare quel gap che si è formato rispetto all'Italia, l'Italia che ha recuperato tutte le perdite praticamente del 2022 è ritornata lo scorso febbraio sui massimi di gennaio senza riuscire a romperli per ora quei massimi il mercato americano più volte avevamo evidenziato come fossero rimasti indietro ma attualmente insomma sembrerebbe che ci possano essere le prospettive soprattutto per i titoli del Nasdaq di andare a recuperare questo gap. Anche il titolo meta che vado adesso a prendere e sul quale siamo long nella rubrica dedicata all'azionario USA ha rotto proprio ieri la resistenza del massimo relativo precedente e anche questo sembra di voler spiccare il volo quantomeno portarsi su dei livelli superiore ai 260 dollari. Se avete qualche titolo che volete analizzare ben volentieri la diretta è anche su YouTube adesso vado a vedere anche su YouTube andrò a vedere se c'è qualche domanda da parte degli ascoltatori. Vediamo su YouTube, no per il momento non ci sono domande, approfitto per cambiare un attimo schermata dato che arrivano spesso domande anche sui servizi e domande che cui cerco di rispondere via email e anche sui vari social e abbiamo aggiornato l'avevo anticipato abbiamo aggiornato era necessario oramai il sito ema trend soprattutto alcune pagine che necessitavano di un restyling la pagina in particolar modo servizi e prodotti quindi se andate su questa pagina trovate le descrizioni aggiornate di quelli che sono attualmente i servizi disponibili quindi per il pubblico e privato l'HFT plus scanner, il report e i segnali, il tema del trading automatico qui scendendo verso il basso ci sono i dettagli poi dell'HFT, trading automatico, si può andare su una pagina ulteriormente dedicata per ognuno dove c'è scritto più info, stessa cosa per i report daily, report investing, indicatori e trading system e anche qui trovate tutti i dettagli, i costi e quant'altro anche qui trovate la possibilità di raggiungere anche delle pagine dedicate che si raggiungono anche eventualmente dal menu servizi e prodotti ecco fatta questa così piccola nota di servizio che era importante viste le domande che spesso arrivano qui praticamente trovati il riepilogo di tutti i prodotti servizi report trading automatico HFT flow scanner eccetera 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 dunque vediamo un po' non vedo domande sui titoli USA Maria Lisa si dice che non riesce a sentire direi che sia un problema suo perché tutti gli altri stanno sentendo quindi non so se mi sente ma glielo scrivo si problema suo per Maria Lisa poi invece c'è una domanda di Rosario che non è su un titolo di uso ma è sulla Juve invece il titolo America come portafoglio è il D-Pro vediamo un po' D-Pro se lo troviamo come ticker D-Pro se è qua o se devo cambiare paniere un attimo solo di pazienza non lo trovo quindi se mi dà il ticker per cortesia vedo magari di aspetto se qual è il ticker esatto forse D-Pro U-D-Pro eccolo qua dovrebbe essere questo questo dovrebbe essere il questo dovrebbe essere il titolo che mi è stato richiesto è un titolo se cortesemente chi ha fatto questo sghiribizzo per credo per errore se riesce a toglierlo mi fa una cortesia dunque questo titolo vediamo che si fa 0,86 in questo l'ultimo l'ultima chiusura siamo torno vicino a questo livello di supporto sullo 0,75 prima livello di resistenza sull'1,11 siamo vicino a un iper venduto o si regge adesso e rimbalza dallo 0,86 altrimenti meglio aspettarlo sullo 0,75 impostazione tecnica non è certamente positiva quindi un titolo dal quale io non vedo particolari segnali che invitino ad aprire posizioni rialziste quindi direi che sia consigliabile rimanere flat e non aprire appunto posizioni bene direi che possiamo andare invece se non ci sono altre domande sui titoli azionari ah sì chiedo scusa non ho ricondiviso avete perfettamente ragione torno immediatamente nella condivisione del del grafico chiedo scusa ecco questo è il grafico del titolo di cui si stava parlando vedete come questo titolo abbia questo livello di supporto sullo 0,75 0,86 in area 0,86 ci sia un supporto intermedio il rischio è quello di tornare giù verso lo 0,75 non ci sono particolari pattern di inversione qui c'è la media mobile sull'1,11 1,11 dollari media mobile a 200 periodi e anche la resistenza statica che transita più o meno sullo stesso livello quindi direi che non sia possibile entrare long in questo momento senza prendersi dei rischi abbastanza alti o quantomeno un rischio che deve essere calcolato gestito sotto questo livello di supporto poi una società di droni sia civile difese è quotato anche al nasdaq anzi forse ne avevamo anche già parlato non ricordavo ma forse ne avevamo anche già parlato di questo titolo in passato andiamo invece adesso visto che non avete domande sui titoli azionari americani la nostra panoramica l'abbiamo fatta no sì ci sono sono arrivate improvvisamente allora marvel microtechnology mamma mia quante domande che sono arrivate da youtube nel giro di pochissimo allora andiamo a vedere dunque mi viene chiesto dei livelli di stop io non do i livelli di stop in questo quando faccio questa analisi non do dei livelli di stop puntuale perché non è una rubrica di segnali di acquisto di vendita faccio analisi quindi analizziamo supporti resistenze possibili e eventuali punti di stop ma non è un trading system non sono segnali puntuali quelli che diamo quindi avrebbe senso nel caso in cui ci fosse una rubrica con che poi viene seguita step by step perché poi i trade vanno seguiti step by step poi ognuno ha profili di rischio diversi quindi cerchiamo di dare un ventaglio di supporti e di resistenze e ognuno poi in base a quello che è il proprio orizzonte temporale decide quale supporto quale resistenza guardare con più attenzione quindi ad esempio guardando al titolo amazon che poi abbiamo visto prima primo livello di supporto adesso è diventato questo che è stato resistenza prima quindi 114 dollari e poi abbiamo un secondo livello di supporto qui in basso tra questo gap che si è formato tra il 9 e 10 di maggio e poi c'è sempre un livello da guardare con attenzione i 105,88 dollari supporto dinamico dove transita la media mobili a 200 periodi e poi abbiamo i 101,15 dollari che viene evidenziato qui in rosso questi sono i livelli di supporto adesso ad esempio per amazon e la resistenza l'abbiamo visto prima questa che è già stata battuta resistenza successiva questa che vado evidenziare adesso sui 121.26 dollari poi altri alfabet stessa cosa la riguardiamo al volo indicando meglio magari i supporti andiamo a vedere alfabet eccola qua livelli di supporto che sono stati resistenza il primo sui 109 e 94 e poi abbiamo un supporto più in basso sui 103.41 questi sono i livelli importanti di supporto di alfabet poi dicevamo invece altre domande che sono arrivate su qualcomm ad esempio ci sono veramente tantissimi titoli andiamo a vedere qualcomm ecco qualcomm è invece un titolo che praticamente è rimasto fermo al palo a differenza di tutti quelli che abbiamo visto fino a questo momento che hanno spinto a rialto il nasdaq qualcomm è vicino ai minimi che sono stati toccati in maggio ma vicino anche ai minimi dello scorso novembre del 2022 e sarà un doppio minimo questo difficile saperlo adesso chiaro che o rimbalza adesso o da qua si risolleva maggior ragione con un buon andamento dell'indice o saranno dolori io guardo sempre con sospetto ai titoli che fanno peggio dell'indice perché se fanno peggio dell'indice un motivo ci sarà con un nasdaq così forte andare a puntare su titoli che fanno peggio dell'indice quindi hanno miglior forza relativa così come lo dico spesso sull'italia che non è una strategia vincente o quantomeno più delle volte così perché ci sono dei titoli in trend bisogna focalizzarsi sui titoli in trend piuttosto che su titoli che non si muovono addirittura qualche volta si muovono in tendenza negativa detto questa cosa a livello filosofico dovesse bucare i suoi minimi in particolar modo i 100 dollari sarebbero dolore quindi c'è da augurarsi veramente che da qui possa rimbalzare andare a chiudere questo gap il primo livello di resistenza da cui potersi aspettare eventualmente una ripartenza di medio periodo e adesso sui 117.64 dollari allora c'è anche una domanda sono veramente tante una domanda su chi reversa e quando un chi reversa è subito seguito da un altro senso contrario quest'ultimo nega il primo grazie allora sui chi reversal se seguite quello che vi dico io io vi dico di seguire i chi reversal cioè di fare attenzione ai chi reversal in ipercomprato e in ipervenduto che sono quelli che hanno la maggior probabilità di successo quindi se li accompagnati dall'utilizzo degli oscillatori ipercomprato ipervenduto è impossibile che ci sia un chi reversal seguito di di un tipo real tipo realzista seguito da un chi reversal ribassista che ci dà un segnale uguale al contrario perché se siamo in ipercomprato non possiamo la candela dopo essere in ipervenduto o viceversa quindi anche per questo utilizzo gli oscillatori ma innanzitutto perché danno una maggiore affidabilità ai chi reversal e poi impediscono eventualmente di fare delle operatività stop e reverse che il più delle volte portano a poco se si guarda chi reversal senza l'utilizzo degli oscillatori molto dipende anche dall'ampiezza della candela stessa che ci dà il rapporto soprattutto del body e della lunghezza dell'ombra che ci dà il rapporto di forza tra compratori e venditori però magari ci potremmo fare anche una lezione apposta dedicata come già abbiamo fatto altre volte sul fatto del time frame io lo guardo sempre sul daily o sul weekly ma vi ho fatto vedere anche che si funziona su time frame a 30 60 minuti però la maggiore efficacia mio modo di vedere e sul daily e sul weekly non guardiamo il daily a caso di solito poi andiamo c'erano altre domande su youtube vediamo di rispondere cercare di rispondere alla maggior parte la barra dell'equatoria 630 sul fig può essere considerata un key reversal di quanti tic deve essere minimo un key reversal allora l'ho già spiegato tantissime volte ma vedo che c'è bisogno di ritornarsi sopra un key reversal andiamo intanto prendere il fuzzimib e prendiamo il 30 minuti ok questo è il fuzzimib perché mi pare che venga segnalato a 30 minuti un key reversal è un patter a due barre ha delle regole ben precise quindi il bello dei patter è che non sono aleatori infatti possono essere codificati facilmente all'interno di software di analisi tecnica e visualizzati in modo meccanico perché non sono aleatori sono regole ben imprecisi non è che ci può essere un dubbio c'è un key reversal o non c'è un key reversal o uno vede un key reversal e uno non lo vede o c'è o non c'è perché le regole sono un minimo che deve essere inferiore al minimo precedente e una chiusura superiore alla chiusura precedente sono due semplici condizioni sono semplicissime per il key reversal il realzista quindi o la chiusura è maggiore della chiusura precedente o non la è o il minimo è più inferiore a quello precedente o non lo è quindi non ci possono essere dubbi in questo caso ok quindi la domanda può essere un key reversal o lo è o non lo è non non è ipotetico dipende da queste due semplici condizioni questo che ho evidenziato è un key reversal perché è un key reversal realzista perché è un minimo inferiore al minimo precedente la chiusura è sopra alla chiusura precedente è un key reversal questo è un key reversal ribassista invece questo qui in rosso perché la chiusura è inferiore a quella precedente e abbiamo il massimo superiore a quello precedente key reversal ribassista il key reversal che ho commentato ieri mattina dicendo attenzione c'è un key reversal ribassista è vero che si è formato in un orario un po anomalo perché il cash cioè i titoli azionari erano chiusi vedete con una candela anche con un body abbastanza piccolo quindi bassa volatilità qui vedete come la volatilità fosse maggiore quindi quando c'è un body di un'ampiezza maggiore è un segnale tendenzialmente più affidabile rispetto a quando è stretto però il key reversal c'è quindi qui ad esempio non so quale sia la candela delle 14 30 di oggi immagino eccolo qua sul grafico 30 minuti questo può essere un key reversal no non lo è non è affatto un key reversal non lo può essere perché il massimo non è un key reversal ribassista perché il massimo non è superiore a quello precedente la chiusura è inferiore a quella precedente ma manca una delle due semplici condizioni cioè che il massimo sia maggiore di questo non è un key reversal quindi le condizioni ribadisco sono veramente sono due e se ne manca una non è un key reversal non sono il bello dei pattern che non sono aleatori e sono facilmente appunto programmabili all'interno di software quindi un come abbiamo fatto vedere più volte le scansioni di questi pattern si possono effettuare in modo molto molto pratico attraverso attraverso appunto software di analisi tecnica dunque caro dice su mfa ieri fatto più 7 mfa non ne para c'è qualche news non glielo so dire neanche io non non ho guardato le news su mfa e a poi andiamo a vedere invece per chiudere due titoli azionari che vengono chiesti su youtube dunque vediamo un po allargando il paniere marvel su tutti i titoli usa se riesco a trovarla andiamola a vedere qua marvel se la troviamo correndo eccola qua marvel technology dunque situazione di marvel technology classico titolo che è ancora un po né carne né pesce in congestione ma qualche segnale positivo si vede quei segnali positivi sono allargandolo un po titolo che si pone sopra la media mobile 200 periodi questo in blu quindi è stata abbattuta già sulla candela del 17 di maggio e abbattuto il la media mobile 200 quindi buon segnale si è portato sopra al massimo relativo precedente che era questo sotto la media mobile 200 periodi questo qua sui 43,83 sembrerebbe quindi voler puntare su questa che è l'ultima resistenza impegnativa 49,50 dollari attenzione a quest'ultima resistenza perché si dovesse decollare sopra il 49,49 allora secondo me invertirebbe il trend anche nel medio periodo con la possibilità poi di salire su quest'altro massimo 58,35 diciamo che ci sono i primi segnali interessanti che possono portarci appunto su questo massimo come primo eventuale target e poi eventualmente su quello successivo che abbiamo appena visto sarebbe importante soprattutto la rottura dei 50 dollari per dare un segnale di inversione di medio lungo periodo poi l'altro titolo con il quale chiudiamo il tema dei titoli americani per oggi sì max chiede anche un appunto sul dax infatti chiudiamo la parentesi dei titoli americani e poi ci portiamo sul sul a dare un'occhiata a quelli europei ho fatto bene a ricordarmelo eccolo qua l'ultimo titolo che viene chiesto micron technology titolo che vediamo un po' cerco di analizzarlo e di farmi un'idea più precisa dunque si è portato sopra a questo livello di resistenza che era un livello di resistenza importante sui 65,47 dollari già da tempo è sopra la media mobile 200 periodi la rottura di questa resistenza potrebbe portarci su verso questa resistenza successiva dei 75,50 dollari abbiamo avuto un segnale di forza ci vorrebbe adesso un consolidamento sopra alla resistenza almeno per due o tre sedute su questa dei 65 la primo livello in azzurro per poi dare l'assalto a questo secondo livello azzurro che corrisponde vediamo perché l'ho tracciato perché vedete il secondo livello è stato un livello che è stato toccato qui nell'agosto del 2021 e quindi e poi di nuovo è stato supporto anche nel marzo 2022 i supporti diventano resistenza e quindi vedremo in caso di rottura di questo livello confermato in close poi ci attende il massimo relativo precedente che è questo qua dei 75,40 dollari però nel breve è importante che si mantenga sopra quest'area tra i 64 e i 65 dollari bene andiamo a vedere il DAX per chiudere il collegamento di oggi DAX eccolo qua questo è il grafico weekly del DAX vedete come sia stato in congestione per a lungo con delle candele praticamente anche nel commento che ho fatto nei report settimanali per 3-4 settimane il commento è stato sempre lo stesso con l'ipotesi che potesse eventualmente fare uno sforzo di raggiungere alle 16,3,50 ecco io sinceramente ero e forse sono ancora un po' scettico che possa allungare molto oltre questa resistenza data la stagionalità che solitamente è negativa nella seconda in particolar modo la seconda metà del mese di maggio quindi il rischio che questo in questo momento si sta profilando come una rottura del massimo relativo precedente il rischio che questo possa essere un falso segnale o una cosiddetta trappola per tori c'è quindi un po' di prudenza o quantomeno se si seguono dei segnali long su singoli titoli o indici magari vista la stagionalità negativa meglio farlo con quantità un pochino più bassa rispetto a quelle che si usano in altri periodi cose che ad esempio stiamo facendo anche nell'operatività sui titoli azionari l'operatività non l'abbiamo interrotta nel mese di maggio nonostante la stagionalità negativa stiamo continuando a seguire la statistica di un trading system per il momento qualche falso segnale c'è stato ma anche belle soddisfazioni dal raggiungimento di target ieri ad esempio su poste Ferrari eravamo già andati a target target colpito sempre ieri su Leonardo e quindi con un mercato italiano che anche in questo caso un po' inaspettatamente per il momento si è portato sopra i 27.200 ma anche per questo si seguono i trading system si segue la statistica perché poi alla fine essere disciplinati paga questo è invece il nostro Fuzzimib grafico a 30 minuti abbiamo detto del key reversal ribassista che assolutamente non c'è lo prendiamo sul grafico giornaliero eccolo qui è rotto i 27.280 che è il livello di resistenza di breve di cui avevamo parlato più volte nelle dirette la resistenza successiva è i 27.660 ecco qui la situazione più complicata rispetto al DAX perché abbiamo prima di poter raggiungere i massimi di marzo di febbraio abbiamo ancora i 27.660 27.620 chiedo scusa da abbattere quindi abbiamo già ragione poche le situazioni su cui è meglio focalizzarsi senza magari andare in overweight in sovrappeso e andare a comprare tutto il listino indistintamente perché non è ancora questo il timing migliore finché sia sotto resistenza ulteriori aggiornamenti li faremo poi nel weekend in base anche alla chiusura di oggi l'analisi settimanale che di solito viene condivisa il lunedì e poi lunedì ci aggiorneremo con una nuova trading room preparerò il nuovo calendario cercheremo di recuperare avevo annunciato una puntata solo su HFT Flow Scanner ma tra impegni vari tra cui il salone del risparmio questa settimana non l'abbiamo fatta ma cercheremo appunto la prossima settimana di mettere in calendario una puntata anche dedicata a HFT Flow Scanner intanto grazie a tutti vi auguro un buon trading un buon fine settimana sperando che siate tutti in salute e visto quello che sta accadendo in Romagna e so che ho tanti anche clienti e follower da quelle zone mi auguro che la situazione vada migliorando soprattutto per chi purtroppo è isolato o per chi ha ancora l'acqua in casa in bocca al lupo ai romagnoli e tanti auguri di pronto ritorno alla normalità buon weekend a tutti e a presto grazie a tutti